L'Europa è vicina all'Ucraina e non solo da un punto di vista geografico. Ci ha tenuto a ripeterlo da Milano il presidente della Commissione europea Barroso, che pur ricordando che la decisione spetta solo e soltanto agli ucraini, ha aggiunto «Ho chiesto al presidente Yanukovych di ricevere Catherine Ashton, capo della diplomazia europea, che sarà a Kiev già domani e dopodomani. Può avere un ruolo e dare soluzioni a questa tensione che si sta vivendo oggi in Ucraina». Malgrado la pressione diplomatica di Bruxelles, però, a Kiev è in atto una contramanifestazione del Partito delle Regioni, del presidente Yanukovych, in corso al Parco Maginski, dove sono affluite circa 15.000 persone. Il compito per la Ashton si preannuncia duro.